Though I know not what you are, Twinkle Twinkle Little Star E rieccoci qui ragazze e ragazzi, anche stasera su Dead Space Stiamo sempre cercando di, in un certo senso, riparare ciò che si può riparare di questa nave In questo caso, l'episodio scorso, abbiamo fatto rifornimento Adesso ci apprestiamo, penso a stabilizzare, non so, stabilizzare la nave a livello gravitazionale Perché pare stia precipitando verso il pianeta Nel mentre, stiamo scoprendo che qua c'erano membri Sì, c'erano membri di Unitology, se non ho capito male Che, scoprendo questo marchio E questo un po' in parte me lo ricordo Da quello che avevo già visto su Youtube Ah, inventario pieno Un po' invasati Questi qua Adesso nel dettaglio non mi ricordo Però, diciamo che grazie a questo marchio sono usciti i fogli di test Ecco Allora, questo lo lascio E mi prendo questo Ho preso il tagliatore Che forse non è male, vedremo Allora Qua siamo a gravità zero Qui? Non lo so Dov'è? Ahà Fatti vedere Guarda, guarda Ti taglio la coda Mamma mia Ok Essi sti esseri Sopravvivono dappertutto Allora Ma per andare lì Adesso non mi ricordo Mi devo lanciare Visto che c'è la gravità zero No Non mi fa Ah ok Era con Y Va bene Aspetta Mi gira la testa Beh Ok Vabbè Questo Ah non entra Ah ok Quindi Modulo generatore Collegato Ok Ah qua c'è l'ascensore Quindi magari da qualche parte C'è un ricaricatore di stasi Forse No Questo ricarica ossigeno Puoi vedere la mappa Io sono lì Ah sì Vedi che c'è Vedi che c'è Aspetta Di qua Dovrebbe Eccolo là E la ricarico Ok Così non uso L'oggetto che ho Nell'inventario No Perché no Ah ok Vado Lame Ok Centrifugue Attivata Torno là Ah no Adesso c'è la gravità Giusto Un po' bene No 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 Sto dicendo Galleggia ancora tutto Ah ok Non potevo andare là Semplicemente 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 Ricarico la stasi Andiamo a attivare Devo andare Di qua Sì Questo Prima che finisce L'aria Ah ok Ah ok Stai andando bene Isaac Centrifughe Giroscopi Sono stabili Al 100% Sono morto Aspetta Aspetta Centrifuga attivata Riallineamento Stabilità Con carico Gravitare Gravitare Prestilata Accesso Mi sono messo Mi sono messo Mi sono messo a correre Perché Aspetta Ah giustamente C'è questo che gira Mi devasta Stai andando bene Un altro giro Ok Sei così intelligente Tu Ah ecco Ok Porca Ok Quindi com'è Tutto Avattato Ah vai ci sono Chiudi Ok Perfetto Quindi ora Si torna Indietro Ecco bene Vedere Cedi manualmente Al propulsore Si Madonna Aspetta Ho già capito Dio santo Questo tentacolo Che ha sfondato Non promette Nulla di buono Ok Qua avevamo Già guardato Ecco Abbiamo ospiti Ah guarda Ok Pensavi eh Di fregarmi Mi è andato un po' Di culo Aspetta Di qua Si Isaac Mi senti Sono Kendra Mi hanno attaccato Sono fuggita E Amond Lui è Scomparso Kendra Dove ti trovi? Felice di vederti Sano e salvo Emo Sono barricata Nel nucleo Del computer Le sento Che si muovono All'esterno Ma non credo Che sappiano Che sono qui Posso collegarmi A tutto Da qui Ho violato Il sistema E ho trovato Dei rapporti Della colonia Già prima Di iniziare Le operazioni Fra i coloni Si erano verificati Episodi di follia Pare Siano collegati A un manufatto Trovato sul pianeta Qualcosa chiamato Il marchio Continuerò a indagare Ho la tua posizione Sblocco l'ingresso Del deposito combustibile Da lì puoi raggiungere La camera del motore Eh già Qua sono tutti impazziti Sono trasformati Poi Allora Allora Posso vendere qualcosa Semiconduttore d'oro Bombola dell'aria Non ci è servita Quindi io la Muoverei Tutta Plac di stasi Ce lo teniamo Abbiamo le munizioni Pistola Ok Tagliatore Cassaforte Abbiamo sta roba Abbiamo 13.350 Posso prendere Un nodo energetico Ok Allora Con questi due nodi Energetici Aspetta Qua c'era Esatto La Macchina qua Di potenziamento Allora La malplasma E mi prendo E mi prendo Questo Ok Ora I danni Della malplasma Sono al massimo Il resto Ma Per ora Per ora va bene così Iniziamo a potenziare La pistola Multiraggio I danni Sempre Ovviamente Ok Così inizia a far male Pure Lei Ce l'ho al massimo Sì Ok Allora Devo andare Di qua Aspetta Che salvo Particola Salvo Allora Questo Ok Apri Burka Accesso A gravità Zero E Un po' distrutto Qua Meglio Sennò guardavo Lì in basso Non c'è niente No Andiamo Andiamo Va Andiamo Andiamo Ho preso Una bombola D'aria Uscita Da qua Casino C'era un bordello Lì Qua ci sta crescendo Una pianta Sennò Devo andare Di là Aspetta Di obiettivo Ne abbiamo Uno solo Ecco Qui c'è Una specie Di deposito Ok Aspetta Registo Tecnico Danvers C'capo Crescita organica Sul ponte Tecnico Aggiornamento La crescita Non identificata Già osservata In altre parti Della nave E' giunta Sul ponte Tecnico Non so cosa Diavolo sia Questa roba Sembra che qualcuno Abbia vomitato Sulle pareti Direi peggio Però si diffonde Più velocemente Di quanto possiamo Eliminarla Cosa veramente Disgustosa Sta avvicinando Al motore E se non riusciremo A fermarla Entro dopo domani Raggiungerà La camera Principale Spero che Qualche cervellone Stia pensando A cosa fare Perché io Non so Che pesci Prendere Eh Potevate Darle fuoco Guarda Darle fuoco Nodo energetico Bene Crediti Non fanno Non fanno mai Schifo Nivello inferiore Hai invaso tutto Sta roba Lo carichi Quello mi attaccherà dopo Ma come camminiamo Cioè Aspetta Eh vabbè Volevo provare A raggrupparne Un po' Oh ma Ascolta Perdonami Ma Smembriamolo Ecco Ok Crediti Crediti Ah di qua Di qua E qui Non c'è niente Apertura Fa vedere Di là Andiamo qua Un altro pack di stasi Inventario pieno Sì E c'è pure La ricarica Cosa me ne faccio Vabbè C'era un essere Dentro Si vede E no Questo qua Lo lascio qua Adesso Ricarico Ah Un'altra porta Eh sì Dai Sai cosa c'è dentro Eh 5.000 crediti Inventario pieno Aspetta Adesso Ah porca Quando mi seleziona Uno Schema Lame tagliatore Sono pieno Aspetta Cosa Allora Questo Posso anche Lasciarlo Lo schema Lo schema Del pack Medio Uso un kit Medico E ho due Slot Schema Lame tagliatore E sono Aspetta Qua c'è un pack Di stasi Quello che ho lasciato Pack Medio E munizioni Per la pistola Multiragio Se me la fanno Me la fanno Prendere Invece di selezionarmi Il kit medico Porca vacca Sposto Posto No No Eh ho preso Prendiamo questo Adesso sono pieno No Inventario Eh Ne ho un po' Allora Teniamo il Multiragio Adesso I due schemi Ok Qua sono pieno Ok Queste Lasciamole qua Magari poi torniamo indietro Non lo so Lasciarle di va Yes Ecco adesso Che ho ricaricato Vado Torno a prendere Ok Adesso posso fare così Pagli stasi Ok Ok Vola 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 Mi piace una Ah guarda Aspetta Mizzica No 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 Facciamo così Va Che se Ok 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 Eh si vede Che fa un po' Più male Taglia meglio Abbiamo affilato La lama Ok Salviamo Ok Questo Apertura Qua è bloccato Aspetta aspetta Lasciali avvicinare Non si avvicinano Anzi scappano Aspetta Ah esco Ma pensa te Esco dall'area Ok Cazzarola Eh ci ho provato Dove sei Il pestone Fa proprio Dico cagare Però Mi sa che Hanno scoppi Pensavo che scoppiava Pack di stasi Che non lo voglio Lame tagliatore Lame tagliatore Fammi vedere Usiamo questo Ok Ho un po' Di lame tagliatore Ecco adesso Ho Un po' Meno Eh usiamo il tagliatore Allora Beh Pack di stasi No Ok Azioni Moltiraggio Qua c'è un altro Medico Medio Semiconduttore D'oro Nodo energetico Ottimo Dobbiamo andare Di lì No Sono pieno Porca Va Eh Che cavolo Lasciano Beh ho un botto Di kit medici Eh Eh Non lo so Non lo so Devo potenziarla Sta benedetta Tutta Maledizione Aspetta Lasciamolo qua Va Magari adesso Arriva altra gente Ok Va bene Seguenza di accensione Attivata Attendere Che seco Che seco Oh che schifo Che cavolo Non riesco Pochissima vita Non muo Non muo Ehi La Messo Messo Ma Mamma mia Mamma mia Ma che ce n'è No Aspetta 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 Dov'è Usa Oh mi sento meglio Usa Ok 2 2 1 Allora di questa Abbiamo 10 colpi 5 Ok Eh il tagliatore Appunto va bene Sì Per nemici singoli In gruppo Insomma Adesso confermo Adesso confermo Un attimo Ecco Vedi che Ok E guarda Uso Pack di stasi Ecco Ok Aha Madonna Libra Tutto Sì Funzione Siamo online E operativi Finalmente Una buona notizia Raggiungi il ponte Con un trasporto Isaac Ora riporto Quest'affare In orbita Aspetta Non siamo ancora Al sicuro La difesa L'asteroidi Della nave Non è attiva In fase di risalita Dovremo oltrepassare Una zona di detriti Provenienti Dalle tre dell'azione Se non la rimetti In funzione Per noi Sarà la fine Merda Vedrò Cosa posso fare Da qui Isaac Raggiungimi sul ponte Sarai molto più utile Di me Perché io devo sempre Muovermi Andare a destra A sinistra E questi se ne stanno Belli Chiusi Nel loro Booker Non so Vedrò cosa posso fare Da qua No Alza il culo E vai a darmi Una mano Non so Ok Vai Alla sala motori Isaac Isaac Dove sei Sono io Nicole Ah ecco Ah Siamo tornati Io Io mi ricordo Che lei Aveva qualcosa Che non andava Mi pare Questa Nicole Non era Proprio Perfettamente In sé Se non ricordo male Poi non lo so Allora Ho talmente Talmente tanti Medpack Che posso venderli Medio Medio Due medi depositati Guarda Ecco Sto così Sì Così va bene Acquisto Due nodi Così potenziamo Potenziamo le armi Sì dai Ne acquisto Due Ok Eh non so Quando Diciamo Ci sarà Come disponibilità La tuta A livello Tre Quindi Mi darebbe un po' fastidio Risparmiare Per aspettare Cioè Potenziamo le armi E stop Allora pistola multiraggio Devo aumentare i danni Ho tre nodi Tre nodi Posso Andare di qua Ne consumo due E il terzo di qua Poi me ne servono Uno Due Tre Ah L'ampiezza C'è anche Quattro e cinque Con cinque nodi Poi raggiungo I danni massimi Va bene Dai Ok Sì sì Puntiamo al danno Come sempre Nei giochi Io Alla fine Punto Per lo più al danno In generale Più dolore Per i miei demici Meglio è Ok Salvo adesso Sì Facciamo così Va bene Allora Dove devo andare? Indietro Mori 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 Boh Eh sì Contro nemici singoli Questa va bene Riesce a tenerli un po' a bada Ma se c'è anche un altro Vicino Ok Sì Arrivo Come cavo ti chiami Mi ricordo il nome Correzione di rotta Vito Ho tre completato Ah Siamo appena salvato E fa niente Risaldiamo Isaac Rispondi Kendra ha ragione Il sistema SDA è andato Mi serve il tuo aiuto Per ripararlo Kendra Se mi senti Cerca di accedere Al diario di bordo Sembra che tu Sia in una posizione migliore Quando ci avresti parlato Di questo manufatto Hammond Del marchio Ne so nulla di quella roba È menzionato nel diario del capitano L'hanno riportato dal pianeta È su questa nave Nella stiva Credono che sia di origine aliena Ma io non ne so nulla Davvero? La CEC non ne sapeva niente Stai mentendo Basta così Non sono io il nemico qui Siamo tutti scossi in questo momento Devi credermi Quando ti dico che non ne so nulla Siamo entrati nella fascia di vetriti Alla postazione del capitano Ti spiegherò dopo Hammond Chiudo Ecco Hammond Sì Lame tagliatore Crediti Questo è chiuso Qui Un Medico piccolo Adolta Adolta ok ma sti tentacoli non so il negozio l'ho appena visto si io magari avrei prima attivato il sistema SDA e dopo avviato i motori se me l'avessero detto avrei fatto il contrario ah qua sotto devo andare vediamo se c'è qualcosa qui ok ah si si aprono ok un po' di soldi bene bene può andare di là ma qua ah no è bloccato ok risalviamo ok schema tutta livello 3 perfetto perfetto e allora posso fare una cosa scusa eh no anche solo per liberare uno spazio torno un attimo indietro torno al negozio tanto era qua scarico lo schema così almeno so che cifra devo accumulare ok tutto a livello 20.000 20.000 bene anche tanto prima ero arrivato a 20.000 ho qualcosa da vendere per caso no ok cassaforte va bene così perfetto ok adesso appena possiamo tutto a livello 3 aumentiamo lo spazio la vita penso la resistenza comunque ok 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 vedo di qua o Isaac merda mi hai spaventato questo posto mi dai brividi quel tennato asteroide ci ha sfondato la testa ascolta so che Kendra non si fida di me ma io non ne so nulla di questo stramaledetto marchio questa doveva essere una semplice missione di riparazione semplice certo questo casino è il sistema antiasteroidi posso sistemare le schede ma la centralina primaria è andata per attivare il cannone primario dovrei reindirizzare l'energia manualmente attraverso almeno tre scatole di interconnessione ah ma per prima cosa devi attivare gli ascensioni nell'atrio del ponte di sicurezza puoi usarli per arrivare alle scatole di interconnessione a proposito Isaac stai attento ho visto qualcosa là fuori non so di preciso cosa fosse è stato un attimo ma era grosso enorme ma fuori nello spazio dici sembra un trono questo visto minerario Dallas i decensi sono sempre più numerosi finora i nomi certi sono rinco di nomi tantissimi nomi di tutti morti no ok è comodo stare qua ascolta vado quando lo dico io devo tornare su devo tornare su Marta stai indietro ma sapevo che fosse morto quando ho sigillato la capsula queste cose sono resistenti ma scusa queste sono capsule di salvataggio queste poi è sigillato uno dentro una capsula di salvataggio potremmo salvarci noi vabbè saldiamo bisogna sempre salvare la partita bisogna essere tranquilli ok devo di là ok oh dio via sa che ok come fa a vederlo mi faccio andargli alle spalle aspetta attenzione ok andiamo mi avrò fatto male bè eccolo oh mi avrò fatto pupufu porca vacca madonna no ho mancato ok dai questa quarantena 5.000 era ricco allora ricarica questo quanti colpi ho? eh devo usare quest'arma si ma vedi questa non sta bene controlli ascensori nodo energetico aspetta eh ok munizioni eh dame tagliatore quelle che non voglio porca allora fammi potenziare dunque un altro di qua i danni ok se poi andiamo giù no ne ho aspetta ne ho un altro ne ho un altro per caso visto male no no zero ok 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 ascensori del ladrio attivi perfetto perfetto ma posso prendere uno dei due o aspetta che mentre combattevo ho visto ecco questo ok ok prendiamo questo va questo è ammutinamento finirete sotto processo Kain le faccia ragionare si calmi Ben tenetelo in base all'articolo 5.46 6.469 del codice marittimo dichiaro il capitano Mezzius non idoneo al servizio il marchio deve essere portato alla chiesa Terence la prego mi spiace Ben ma non posso permetterlo traditore eretico la testa assassino bloccalo è morto lo ha ucciso dottore è stato un incidente dovevo fermarlo arrestate il dottore non mi sembrava un incidente però eh si ma devo andare di qua ma oh sto trovando solo queste munizioni porca va aspetta un attimo dove sono? non mi trovo più non mi trovo ah lì in basso si eh ma aspetta perché effettivamente con l'altro ascensore dove andiamo? eh sono curioso sono curioso eh lungo eh lungo si ecco perché ha messo un video madonna eh pardon apri ah vedi? no livello faccio livello 1 si stanno terraformando la nave aspetta un attimo che volevo capire scusa eh a parte che vabbè percorsi ah vedi uno dei percorsi ok uno dei percorsi eh adesso con questo vado su no stiamo qua dai facciamo questo il secondo poi vediamo salviamo ok e direi di andare avanti da qui a twinkle little star a a a a Grazie a tutti.